Per il momento la situazione è molto tranquilla, non ci sono segnalazioni da parte dei nostri imprenditori di comportamenti non collaborativi da parte dei propri dipendenti e degli imprenditori stessi, anche all'interno degli uffici della CNA non ci sono problemi, tutti hanno presentato il Green Pass e quindi la situazione è sotto controllo, speriamo che continui così anche nei prossimi giorni perché è un momento molto particolare in cui gli imprenditori hanno bisogno di lavorare, devono pensare solo a lavorare perché c'è grande lavoro, i problemi già sono stati creati dalle materie prime che sono sempre più difficili da trovare e anche dal loro costo che è salito in maniera esorbitante, quindi non abbiamo tempo per questo tipo di problemi. C'è un settore in particolare, quello dell'autotrasporto, che voi avete spesso sottolineato come uno dei più critici in questa fase? Assolutamente sì, ci sono grandi problemi per quello che riguarda l'autotrasporto ma anche lì si sta lavorando per tornare alla normalità, è un momento molto particolare, è un momento che dobbiamo rimanere uniti perché è un momento in cui la ripresa c'è, il lavoro c'è e tutti questi intoppi non fanno altro che rallentare invece una progressione importante che deve vedere il nostro territorio che è pieno di attività manifatturiere come un territorio guida rispetto alla grande strategia che ci deve essere in questo momento per riprendere il cammino. Noi abbiamo molte possibilità nel nostro territorio, tutte queste cose lo stanno rallentando e non è giusto. La CNA ha spesso accompagnato questa fase anche dal punto di vista sanitario con le collaborazioni nel senso del camper vaccinale che sarà presente anche questa settimana a servizio delle aziende. Sì per tre giorni sarà a Vallefoglia presso la Tamoil che è nella zona industriale di Vallefoglia perché noi riteniamo di dare un contributo in questo caso all'Aso e alla regione Marche per tutte quelle attività che hanno un unico grande obiettivo, quello di evitare le chiusure. Noi pensiamo che ulteriori chiusure per gli imprenditori sarebbero davvero massacranti delle terie e tutto quello che si può fare come in questo caso noi riteniamo che la vaccinazione sia l'arma migliore che abbiamo contro la pandemia e quindi che si può fare per dare una mano a tutte le persone che ancora si vogliono vaccinare e raggiungere finalmente quell'immunità di gregge che ci permetterà di scongiurare per sempre le chiusure noi lo faremo.